Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il pulsante, iscriviti, e di lasciare un like. Ciao a tutti, sono qui oggi per condividere con voi una notizia molto importante riguardante i rimborsi 730 per i pensionati. In questi giorni, stanno arrivando i primi cedolini con i conguagli per coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi a maggio 2023. Questa è una splendida notizia per molti pensionati, poiché molti di voi stanno ricevendo rimborsi sostanziosi. Tuttavia, prima di lasciarvi trascinare dalla gioia, ci sono alcune cose da considerare. Se ancora non avete ricevuto il vostro rimborso e avete presentato la dichiarazione a maggio, non preoccupatevi, poiché il processo di erogazione dei rimborsi è in corso e potrebbe richiedere un po' di tempo. Ricordate che la pazienza è fondamentale in queste situazioni. Inoltre, è importante sapere che i rimborsi riguardano i pensionati che hanno scelto l'IMPS come sostituto di imposta. Se avete scelto un altro ente come sostituto di imposta, potrebbe esserci un ritardo nella ricezione del rimborso o potreste dover presentare ulteriori documenti per ottenere il vostro credito. Un'altra cosa da tenere a mente è che, se avete presentato la dichiarazione più tardi, ad esempio entro il 20 giugno, il vostro rimborso potrebbe essere ancora in fase di elaborazione e potrebbe richiedere più tempo prima di raggiungere il vostro cedolino. Vi ricordo di essere cauti riguardo a eventuali truffe o tentativi di frode legati ai rimborsi. Non fornite mai informazioni personali o bancarie a nessuno che afferma di poter accelerare il processo di rimborso. I rimborsi verranno erogati direttamente dall'IMPS o da altre entità competenti e non c'è bisogno di alcuna intermediazione per riceverli. Vi invito a controllare periodicamente il vostro cedolino per verificare eventuali aggiornamenti e, se avete dubbi o domande riguardo al vostro rimborso, rivolgetevi direttamente all'IMPS o all'ente previdenziale competente. Non dimenticare di visitare il nostro canale e di condividere questo video, lasciare un commento e se ti è piaciuto, lascia un like, attiva la campanella ed iscriviti al canale. Alla prossima!